Era nata come una festa per loro per comunicare quelle che sono le nostre emozioni, infatti il titolo è il treno delle emozioni dell'Unitalsi, sono le emozioni che noi viviamo nei nostri pellegrinaggi, nelle nostre iniziative, che vedono coinvolti anche tanti bambini. A seguito di questi eventi per noi è stato un po' scontato, essendo un'associazione di volontariato che è vicino anche in queste situazioni, poi lo spiegheremo ampiamente, e pensare di rimodulare un po' la situazione e quindi la festa ci sarà, ma sarà con un tono magari minore, non perché vogliamo non comunicare comunque la festa, ma per rispetto alle vittime, alle popolazioni colpite, e vogliamo dare un segno di solidarietà, di insegnare ai bambini di fare questo gesto, quindi chiederemo a chi vorrà intervenire, a chi ci verrà a trovare, a conoscere, di portare magari qualche giocattolo, qualche bene di prima necessità e che sia ecco una sensibilizzazione per diventare questo, e anche ai bambini renderli protagonisti, anche della sofferenza, in fondo le emozioni sono anche queste, i sentimenti di cui noi ci facciamo parte, e quindi c'è anche il dolore, la sofferenza, però ci sarà sempre il sorriso, ecco, quindi noi la festa la manteniamo, ci saranno i clown, ci saremo noi che presenteremo le nostre iniziative, i nostri stand, anche colorati, perché comunque spiegheremo anche le nostre emozioni abbinate a dei colori, e quindi ecco la festa ci sarà, però ci sarà Gaia, probabilmente verrà lo stesso, e vedremo adesso come rimodulare la sua partecipazione, le sue canzoni, le sue poesie, quello che lei ci vorrà donare, sempre nel rispetto e nella vicinanza a questa situazione di dolore comunque.